Non è piaciuta al governo italiano la decisione di Jens Stoltenberg di nominare lo spagnolo Javier Colomina nuovo rappresentante speciale per i rapporti con i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Già rappresentante dell'Alleanza per il Caucaso e l'Asia Centrale, Colomina è il viceassistente del segretario generale per gli affari politici e la politica di sicurezza. Dopo la nomina, il governo italiano ha espresso sorprese e disappunto in una lettera del rappresentante permanente dell'Italia alla Nato, l'ambasciatore Marco Peronacci, recapitata proprio a Stoltenberg. Cerchiamo anche qua però di ricostruire esattamente come sono andate le cose. Al vertice di Washington, 75 anni dalla Nato, era presente il presidente del Consiglio Meloni e ha sottolineato come da tempo questo governo continua a fare, quanto il tema del Mediterraneo, quanto il tema del Nord Africa, quanto il tema del continente africano sia un tema fondamentale non soltanto per l'Italia, non soltanto per l'Europa, ma ovviamente anche per l'intera alleanza. A breve, a fine ottobre, a fine novembre, ci sarà l'insediamento del nuovo presidente Nato, non sarà più Soltenberg ma sarà Rutte, Rutte che peraltro ha un ottimo rapporto, questo è risaputo anche con il presidente del Consiglio Meloni, auspichiamo e speriamo che ovviamente possa esserci un cambiamento e magari ci possa essere anche un delegato italiano che affronti questa tematica. Ciò detto, per noi è importante mettere sul tavolo la questione africana e la questione ovviamente del Mediterraneo. Dopodiché il nome se è italiano tanto meglio, l'importante è che ci sia un premio di quella che era la versione Meloni. La scelta di Soltenberg è comunque da considerarsi ad interim e oltre a non essere stata ancora formalizzata, potrebbe decadere quando il suo successore, l'olandese Mark Rutte, si insederà alla guida della Nato il prossimo primo ottobre. Visto che il ministro della difesa italiano si è molto lamentato di questa scelta del segretario generale di un incarico sul Mediterraneo a uno spagnolo anziché a uno italiano, segnalo comunque che è una scelta che dovrà poi essere confermata dai nuovi equilibri Nato e dal nuovo segretario generale, ex primo ministro olandese Rutte. Ma al netto di tutto questo, la Nato è meno sensibile alla politica di quello che si dice nel dibattito anche italiano. Al tavolo della Nato contano divisioni, investimenti, disponibilità di uomini, risorse, know-how, tecnologia. Su questo secondo me l'Italia deve fare di più. Nella lettra del governo italiano si sottolina che per essere efficace la politica della Nato verso il Sud necessita di un rinnovato approccio, non di una ridenominazione.